allora buongiorno a tutti qui siamo in viale italia interquartiere nuovo qui che c'è l'obbligo di girare a destra in moltissimi di quasi tutti girano a sinistra qui è pericolosissimo fare questa manovra molto pericoloso sarebbe da mettere sarebbe il caso di mettere delle telecamere per esempio su quel lampione lì in modo da fare da deterrente a questa manovra pericolosa grazie a tutti buona giornata